Tagliate i ritorzi elettorali, tagliate le pensioni d'oro, tagliate gli cittadini, tagliate gli studenti, gli catalatici e gli dirigenti della pubblica amministrazione centrale per l'Italia, tagliate gli studenti e gli dirigenti delle partecipate, ai comuni e alle nuove città metropolitane, facciamo qualcosa per evitare il successo fideologico, fideoteologico, come ben sapete, una pratta autostradale in Sicilia che collega Panerva a Catania, a causa del del successo fideologico, ha proposto la caduta di alcuni di veoli, alcuni di veoli sono cantuti e hanno interrotto la tratta autostradale tra Valenza e Catania, ormai ne dà prezzo e non ha mica un'altra zona che ci può portare di sacre... ...aumenta, secondo dopo secondo, da 2134 miliardi e passato alla probabilità 169 miliardi. Ci stiamo avvicinando quasi, ma in un'unica risposta è la testa. E' un'unica risposta, è un'unica risposta, è un'unica risposta, è un'unica risposta. La ripresa è una fantasia malata. Caro Ressi, la ripresa dell'economia è sostanzo della tua fantasia malata. Stai facendo solo propaganda per imbrogliare i cittadini. Ti stai imbrogliando, ma i cittadini alle prossime elezioni ti uniranno. Dai cittadini, i cittadini, i cittadini, i costri e i interessi sul debito pubblico vengono costantemente, anno dopo anno, richiedendo l'applicazione. Stai facendo solo una calcio dei cittadini, in un'unica risposta, è un'unica risposta, è un'unica risposta, è un'unica risposta, è un'unica risposta. Grazie. 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 ci va da lei e poi ci andiamo pure noi grazie grazie